Nel momento in cui tu non dai l'opportunità ai pubblici esercizi di poter lavorare liberamente negli spazi loro attivando i protocolli covid che sono restrittivi, hai dato l'opportunità a tutti di poter allargare la tosap alla parte esterna. Questa è stata data gratuitamente. In più la tosap normale che un operatore usava nei mesi del covid e quindi dei dpcm di chiusura di restrizione viene annullata e nel senso che gli otto mesi per i comuni di Pesoli, questo è un ringraziamento che facciamo al comune perché i comuni limitrofi non l'hanno ancora attivata e qualcuno darà soltanto tre mesi, concede l'opportunità di recuperare con un rimborso gli otto mesi e il pagamento della tosap di otto mesi. Per i pubblici esercizi, i ristoranti e i bar sarà con il rimborso entro fine anno. Per quanto riguarda invece gli operatori commerciali, gli ambulanti, sarà un conguaglio rispetto a quello che dovrebbero pagare nel 2021. Quindi il 2021 invece di pagare la quota per intera verrà ridotta dalla quota che era imputabile al 2020. Sono queste le boccate di ossigeno anche perché i ristori arrivano col contagocce, in più il ristoro è un'esigua parte della perdita che c'è nei mesi di chiusura e dà l'opportunità alle persone di poter respirare, anche se molti mi stanno dicendo che i pagamenti, che ciò che gli sta arrivando adesso gli serve esclusivamente per pagare gas, luce e acqua. Quindi praticamente dà l'opportunità di poter sopravvivere fino al fine anno, in attesa di un 2021 sicuramente migliore.